un agguato in piena regola quello che ha portato alla morte di paolo salvaggio ucciso a colpi di pistola mentre era in bicicletta a buccinasco i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di milano questa mattina hanno eseguito l'arresto di uno dei partecipanti al suo omicidio si tratta di un uomo di 46 anni italiano che dopo il delitto avvenuto nel 11 ottobre del 2021 è scappato a catania l'uomo è ritenuto responsabile di aver partecipato al delitto in concorso con altre due persone al momento ancora ignote era la guida dell'auto che ha portato in salvo i due esecutori materiali dell'omicidio legato all'andrangheta questa è la ricostruzione effettuata dagli investigatori coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di milano all'alba di oggi sono state effettuate otto perquisizioni grazie alle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza della zona una fitta attività investigativa i carabinieri sono riusciti a risalire ai veicoli usati e quindi al responsabile all'alba di oggi